Pronti? Go! Che co! Che co! Scendi, scendi! Dai Ari! Vinci, vinci il braccio! Vinci, vinci qua! Non tira la leggella, non tira la leggella eh! Go! Dai un attimo! No, cioè... Pronti? Stessa, cioè sempre quarta ma non la stessa sezione. Vai Giulio! No, 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 no. Andiamo comunque... No, 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 no. Non iniziare quattro, no, no. Grazie